Questo è uno di 33 anni, vestito da uno di 77, quindi con una maschera, è un pupazzo. È un'estrema esagerazione di un certo tipo di linguaggio e di volgarità che è diffuso nel nostro costume. E questo non potete negarlo. Chiaro che questa è una caricatura, ma la volgarità, secondo me, non è solo nel dai cazzo. Cioè, dai cazzo è la punta dell'iceberg. Questa è una persona volgare perché è uno che cerca le scorciatoie, cioè la scorciatoia, secondo me, è volgare. Il modo di uscire dai problemi che molto spesso si hanno in Italia è volgare. La parolaccia è il simbolo. È, diciamo, come se fosse l'arma di un eroe dei videogiochi, ok? E quella parolaccia lì per Ruggero diventa la liberazione. Ma è così tanto esagerata che perde di significato, secondo me. Quindi...